Occhio al movimento di Cionek che parte dal secondo, poi va ad attaccare il primo palo, colpo di testa! Rivas! 3-1 Regina! Rivas! Che partita la sua! Occhio al movimento di Cionek che parte dal secondo, poi va ad attaccare il primo palo, colpo di testa! ribassa 3 a 1 Regina ribassa che partita la sua